Il mestiere ma logicamente non facevamo così Sì Poi magari Fai Ma dai Sì Dei farla raffreddare Sì Che roba La cera va sciolta a bagnomaria Perché se no È pericolo che prenda fuoco Se vuole E c'è bagnomaria E' sempre così Ma che c'è la 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 Mamma mia Ma dai Il resto della vecchia Però guarda che stiamo andati nella mia Eh sì Sì Oggi sono i mestri di canestrellaio Vincenzo è che lui è il Grazie Ago Allora dopo poi Prima di andar via Passate di qua Sì Questi sono questi Sono canestrella Adesso fra un momento ci sono Se vuole le faccio stagiate Sì Eh Eh guardi Eh mancata la signora Che c'è mancata Non è morta Eh 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 Secondo me però Teoria Ti faccio una ricetta Ti faccio una ricetta Hai visto qua che c'è proprio le firme Di Perotto Dov'è prima che l'abbiamo vista Pagina l'ho aperto io Di che anni? Eh 53 Questa E qua però parte del 51 Per la signora Ci stagione forse Le staglie sono qui su una notte. Di mamma bambini? Non ho niente ma è piena. Ma non puoi garare da fette? Ah, da fette? Alla un po' del farmacolo. Ma già? Però, già. Sì. Ma sono proprio vinto. E' male. Si muore. E' male. E' male. E' male. E' male. E' male. Quello lì si prepara le scolette in fago. Praticamente si mettevano... Dio di papà che le metteva... Metteva la cosa lì qua e poi giravano la cosa. E così, facevano le loro. E' una macinina? Un macinino. Credo che è pepe. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. 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 Buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Grazie a tutti.